Buongiorno, oggi è martedì, ho appena finito di registrare un video sui colloquialismi che devo adesso montare e pubblicare oggi pomeriggio sul canale. Poi oggi pomeriggio mi dedicherò ai miei compiti di inglese. Oggi ci sono tantissimi strumenti che si possono utilizzare per mantenersi allenati nella conversazione, nella propria lingua target, nella propria lingua di studio. E quindi serve solo un po' di buona volontà, un po' di organizzazione, un po' di tempo. E capisco che ultimamente siamo tutti più pigri, lo so, lo so bene, perché anche io sono molto molto pigra a volte. Però, insomma, se è qualcosa che ci piace veramente fare, la facciamo, troviamo il tempo e l'energia per farla. Ho quasi finito. Adesso i sottotitoli si stanno sincronizzando. E vuole seguire alle giovani generazioni opportunità che rischiano di venire meglio. Faccio merenda. Tra un'ora inizia la mia sessione di conversazione in inglese. E quindi ho bisogno di energie. Hai chiuso la lavastoviglia. Salta! Ehi sto con me, mamma. Bravo! Bravo! Ciao! Te l'ho già detto che mi manca andare all'università. Non so perché, è una sensazione molto strana. Ma in questi giorni proprio sento la mancanza di andare all'università, di studiare. Ma è figo! È bello studiare e imparare. Ciao. Grazie mille! So, buon lavoro! Sto tornando a casa e niente, sono molto soddisfatta del mio nuovo taglio. In realtà sono solo le 10 e mezza di mattina, ho veramente fatto prestissimo, cioè il parrucchiere ci ha messo poco a tagliarmi, perché sono andata alle 9, ero il primo appuntamento del giorno per il taglio e non c'era veramente nessuno, quindi mi ha lavato i capelli, poi me li ha tagliati, me li ha asciugati, mi ha fatto la piega e in un'ora abbiamo finito il lavoro. Adesso torno a casa e mi faccio un caffè, tanto per cambiare, tanto per cambiare, mi faccio un caffè. No, perché ho sonno. Stanotte non ho dormito bene, accendiamo un po' di radio. Allora, mi sono dimenticata di fare il video, perché qua stiamo chiacchierando di cose importanti. E niente, ho preso un cornetto semplice e abbia preso un saccottino al cioccolato e poi il solito caffè. ho preso un saccottino al cioccolato, ho preso due caffè ammazzati e un caffè ammazzato. Queste sono le pizzette di cui vi parlavo nel vlog precedente. abbi che fa le storie di Instagram dal macellaio. oggi hanno gli gnocchi perché è giovedì e a Roma giovedì si mangiano gli gnocchi. mi servirebbero delle patate. facciamo cinque. basta così, grazie. ci facciamo la carbonara con queste fresche. guarda, le porto in mano senza busta, grazie. ciao, grazie. adesso torno a casa con le mie uova e le mie patate nella borsa. devo andare in un'ottica a comprare le lenti a contatto e anche a chiedere se hanno gli occhiali con le lenti blu. ma soprattutto io voglio sapere se sono veramente efficaci o se è solamente una moda. quindi voglio chiedere a delle persone esperte e chi meglio di un ottico può rispondere alla mia domanda. qua. queste sono le uova con il parmigiano, il pecorino, il pepe e sale. qui c'è il guanciale che sta rosolando a fuoco lentissimo e qui c'è la pasta. c'è qualcosa da dire? che va fatta con amore la carbonara, se no non è buona. la carbonara va fatta con amore. ed ecco fatta la carbonara. adesso devo aggiungere i sottotitoli al blog che voglio pubblicare stasera. vediamo se riesco a farlo in realtà perché tra 40 minuti ho una lezione di norvegese. e quindi volevo prendere degli appunti prima della lezione, scrivermi delle frasi e delle parole che potrebbero essermi utili. quindi vediamo se riesco a mettere i sottotitoli. sono molto contenta dopo le lezioni. prima, devo essere onesta, ho un po' di ansia. però è normale, è normale, è normale. non ti ricordi la tua prima vacanza, Carlo? sì, no, la prima vacanza me la ricordo benissimo. è stata anche la prima volta che... vabbè, lasciamo stare. risotto con un perre d'aleggio, parmigiano e una cucchiaiata di squacquerone. benissimo. è buono? sì, infatti. il cast è bello però. sì, infatti forse è carina questa sera. io lo voglio vedere, perché sennò dopo non abbiamo più niente da vedere. ci hai messo più... arancia che pinot. sì, più arancia che pinot. perché non solo arancia che erano due. cosa? cosa? invece di firmare fuori virtù. ah, sì. lo fai tu? questo è il mio spritz. credo stia preparando il mio spritz select. quando è stata l'ultima volta che siamo venuti a fare l'aperitivo? un mese fa, dici? un mese fa, dici? come meno. che ore sono? le 16 e 53. le 16 e 53. vabbè, sono quasi le 5 però. si può fare. ho fatto nella mia vita aperitivo prima di quest'ora. a trieste. ma anche prima di pranzo mi è capitato di fare l'aperitivo. grazie. io ho preso uno spritz select. tu cosa hai preso? americano. è già buio. sono solo le 5 e mezza. sono tornata a casa, ovviamente, come vedete, e sto aggiungendo i sottotitoli al video che pubblicherò tra poco, se il sistema qui mi salva i sottotitoli, perché è la seconda volta che cerco di aggiungerli. vorrei concludere il vlog qui. vi ringrazio tantissimo per aver guardato anche questo vlog e noi ci vediamo sicuramente nel prossimo o comunque ci vedremo in un prossimo video. a presto, ciao!